E questa è la cucina di Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao, come stai? Bene. Setti, ma che stai cucinando? Allora guarda, io direi di cominciare da qui. È una cena per 92 persone, iniziate a preparare questa mattina. Qui ci sono tre quiche alla pancetta affumicata, al salmone e ai peperoni, tre frittate, le zucchine alle cipolle sublime e quella è spagnola alle patate, pancetta. Poi andiamo qua. Qui ci sono due fric tunisini, che è un piatto tipico tunisino, paese dove io vi lo avevo tre e cinque anni. È una pasta frillo ripiena di ricotta, formaggi e spinaci. Poi qui ci sono due muffe.